Ciao a tutti, è molto interessante il lavoro che ha fatto Zachariah Sitchin sugli Anunnaki. Gli Anunnaki vengono rappresentati nei testi sumeraccadici. I testi sumeraccadici sono testi molto antichi, risalenti a circa 6.000 anni fa, che raccontano la storia di questi esseri, gli Anunnaki. Appunto, Anunnaki significa coloro che dal cielo scesero sulla terra e le loro interazioni, diciamo, con i terrestri e come fabbricarono, tra virgolette, modificandone il DNA, gli ominidi presenti sulla terra per produrre quello che noi conosciamo con Homo sapiens sapiens. Ovviamente la produzione, diciamo, del sapiens avvenne ben prima di 6.000 anni fa, ma 6.000 anni fa vi fu un insediamento di Anunnaki, molto un ritorno, potremmo dire, dove venne creata questa razza, diciamo così, specializzata, addomesticata, potremmo dire, che erano gli Adamiti. E stranamente gli Anunnaki, diciamo, i sumeri raccontano la stessa storia che è scritta nella Bibbia. Soltanto che nella Bibbia questi individui vengono chiamati Elohim. Ma si tratta molto, molto probabilmente della stessa tipologia di individui, soltanto operanti in due aree diverse, dalla Mesopotamia, in un caso, e invece, nell'altro caso, nel Medio Oriente, fondamentalmente, a Cana. E dunque, questo, nei testi sumeri raccadici, viene detto molto di più sugli Anunnaki rispetto alla Bibbia. Innanzitutto vengono anche raccontati tutti i tentativi fallimentari che loro fecero nella costruzione, diciamo, genetica dell'essere umano. E vengono raccontati anche tutti, appunto, casi di cui, diciamo, nella Bibbia non sono assolutamente citati, con esseri prodotti, tra virgolette, per ingegneria genetica, con gravi patologie, malfunzionamenti. Fintanto che riuscirono a trovare, diciamo, il modo di produrre l'essere umano che più o meno oggi poi viene conosciuto. In questi testi, su Mercadici, con il lavoro fatto da Zachary Asicin, c'è anche molto di più. Viene anche raccontato qual è il pianeta d'origine degli Anunnaki. È un pianeta di questo sistema solare, ed è per questo che molto probabilmente questi esseri avevano sicuramente una tecnologia superiore, ma non è necessario fare dei viaggi comunque eccessivamente lunghi. Questo pianeta è il pianeta Nibiru, un pianeta che ha un'orbita ellittica molto strana, ha un avvicinamento al Sole ogni 3600 anni circa, e quindi in questo periodo dovrebbe essere in fase di avvicinamento, chiamato anche il pianeta X. viene descritto come un pianeta privo di vegetazione nel quale poi gli Anunnaki vivevano al loro interno. Quindi questa è una storia molto molto interessante che andrebbe anche a giustificare l'enorme quantità di avvistamenti alieni che ci sono. Ve ne sono veramente tanti. Ogni giorno vi sono centinaia di avvistamenti, per cui diventa quasi impossibile pensare che tra tutti questi avvistamenti non possa essere uno vero. Qualora uno fosse vero e reale, andrebbe a giustificarli tutti. E quindi il lavoro di Zaccaria Sitchin è un lavoro, diciamo, veramente fatto molto bene che racconta un'altra storia e che ci fa capire che probabilmente la storia che ci raccontano va completamente riscritta. E lo stesso discorso, diciamo, delle informazioni simili, anche se molto più parziali, si possono trovare sulla Bibbia, che probabilmente è un duplicato, una coppia di questi testi più antichi, che sono i testi sumero-akadish. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, mi raccomando, iscriviti al canale. Ciao!